che vendola il PD non sarebbero andati d'accordo si è capito già durante le primarie poi i toni si sono smorsati per le secondarie così come le definì Massimo D'Alema e così come poi le definì in seguito anche lo stesso Nichi Vendola ma oggi la resa dei conti c'è e l'incontro che ci sarà nelle prossime ore con il segretario regionale Blasi con il presidente del partito sindaco di Bari Emiliano e con il capogruppo del partito democratico Antonio Maniglio sa di resa dei conti sa di resa dei conti perché il PD non ci sta il PD non ci sta ad un dato ovvero che il proliferare dei tecnici di fiducia di Vendola e il ruolo forte dei partiti a sinistra del partito democratico possano soffocare il più grosso partito della coalizione del centro-sinistra uno scenario prevedibile qui si dovrà andare incontro facendo una sintesi una sintesi che probabilmente lascerà anche un po di ruggine fra le varie anime del centro-sinistra 2 targato Nichi Vendola però l'ottica da tenere presente da parte di tutti è questa confermare tanti tecnici in attesa di giovedì quando il Consiglio di Stato si pronuncerà in noi forse per i 78 consiglieri vuol dire aumentare i costi della politica oggi la Regione Lazio dà un segnale varo un'aggiunta a 14 pur potendola varare a 16 segnale piccolo e insufficiente ma speriamo almeno questo recepito anche in Puglia ma che i tecnici siano un costo doppio perché non vengono eletti e diventano assessori e quindi non fanno diventare un consigliere che già prende uno stipendio un assessore che prende lo stesso stipendio con una leggera maggiorazione vuol dire aumentare i costi in un'era in cui oggi scopriamo la classifica del sole 24 ore che le città i comuni sono costretti a pressare fiscalmente i cittadini sempre di più colpa di tante cose colpa di alcune scelte amministrativamente sbagliate colpa dei minori trasferimenti da parte del governo centrale cui le amministrazioni comunali e i sindaci forse non sono stati sempre pronti però scopriamo che è una città del grande salento lecce la seconda in italia per pressione fiscale nel 2008 dunque le eventuali responsabilità divise a metà fra la gestione polibortone e la gestione perrone però se i costi della politica aumentano e le tasse per i cittadini aumentano da parte degli enti locali beh è un dato terribile per i cittadini i cittadini che continuano a telefonare le nostre trasmissioni politiche durante le dirette rimproveranno i politici di pensare alle poltroni di pensare a questi grandi enormi scenari di non pensare al fatto che la gente non arriva a fine mese questo è un dato di cui si parla ormai da molto moltissimo troppo tempo ed allora ridurre i costi della politica ed aumentare l'efficienza rinunciando a qualche poltrona questo è il messaggio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti